dopo il primo evento che mi sembra non era andato molto bene abbiamo preso seriamente la cosa e dopo sacrifici dopo tanta motivazione da parte della mia crew da parte della nuova crew fly squad e arrogance e abbiamo fatto le altre tappe andando alcune bene altre male però sempre motivato sempre sul pezzo per arrivare ad oggi pronto per il texas comunque andava io ero contento ma come è andata sono il settimo cielo per tutti i sacrifici fatti con tutti i ragazzi della crew e delle crew grazie a tutti